ciao ragazzi sono alessandro benvenuti a questa nuova recensione sul mio canale oggi vi parlo di questo film che ho visto ieri lo vedete qui a me spalle si chiama the twin tradotto in spagnolo come gemelo siniestro non so perché sono molto fantasiosi qui quando raducono i titoli dei film e delle serie comunque la trama è molto interessante tratta di una famiglia fa l'eca famiglia americana padre madre 22 bambini gemelli che sono vittime di un incidente d'auto molto grave uno dei due gemelli muore la famiglia per riprendersi decide di andarsene in un paese sperduto dalla finlandia tutti quanti farebbero la stessa cosa per carità ci mancherebbe altro una propria casa di croccata abbandonata da tutto e da tutti andiamoci nel lì perché perché i parenti del marito in realtà hanno radici finiche quindi loro si sono spostati lì perché in realtà una piccola base sostanzialmente c'è in questa comunità che inizialmente già vede di mal occhio la famiglia comincia un certo scetticismo nei confronti dei tre perché da quando arrivano lì cominciano delle cose strane innanzitutto il bambino comincia a manifestare diciamo così delle personalità multiple nel senso che parla con persone che non ci sono sembra parlare con i fantasmi e poi comincia a parlare sostanzialmente con il fratello morto fino a quando addirittura dice alla mamma di essere il fratello morto cerca i giocattoli del fratello morto gioca con i giocattoli del fratello morto chiede che nella stanza dove c'è il suo lettino venga ne venga messo un altro per suo fratello morto insomma cose stranissime la mamma seconda tutto il padre contrario e poi alla fine capiremo il perché la comunità nel frattempo comincia ad essere molto scettica ripeto nei confronti dei tre quando si celebra un matrimonio di una coppia con una scena molto bella che mi ha ricordato molto midsommar con delle cose stranissime che succedono la famiglia conosce una medium la medium interpretata tra l'altro della benissima barbara martin che interpreta questa helen si avvicina la donna e dice io so cose che tu non sai io ti devo spiegare molte cose di questa comunità devo conoscere due figli o sta attento perché sono accadendo delle cose strane che sono accadute anche a mio marito che è stato posseduto dal demonio perché qui la comunità è dedita a riti satanici vogliono far risuscitare il diavolo e tuo figlio penso sia la prossima vittima addirittura le viene detto a questa donna che il figlio morto è stato tolto sostanzialmente in maniera volontaria come primo atto del sacrificio adesso le vogliono togliere anche il secondo per fare in modo che diavolo possa risorgere ed è questo che viene fatto gridere allo spettatore la donna dice la medium voglio dire a casa tua voglio vedere tuo figlio gli voglio parlare va a casa della donna la donna la accoglie e la medium le dice tu sei una donna malata stop attenta questo momento in poi ci sono gli spoiler e vi racconto il film dico solo se non volete andare oltre nel video guardatelo perché è fantastico la tensione altissima i jump scaring sono pochi ma ben architettati bellissime atmosfere bellissimi paesaggi un po lento è un po così così la recitazione del bambino per il resto il film tiene altissima la tensione per 90 per cento della sua durata fino a quando non c'è questa scena dove io sostanzialmente ho capito un po tutto insieme al fatto che la donna fa delle fotografie al bambino mentre gioca sull'altalena sviluppa queste foto e nelle foto non c'è nessuno quindi si capisce che in realtà questo bambino non esiste è la vecchia medium dice alla donna tu sei malata cosa che le aveva detto anche il dottore dove lei si era recata per dirle guarda che il mio figlio parla con i morti e il dottore le aveva detto tuo figlio sta benissimo non è tuo figlio il problema se tu che sei malata in realtà il problema qual è è che questo bambino non esiste la seconda parte è molto molto tragica perché in realtà si viene a scoprire che la coppia aveva un solo figlio che è morto in questo incidente d'auto la donna non si è mai ripresa dallo shock addirittura è finita in manicomio perché non riusciva più a riprendersi e si era chiusa in se stessa fino a quando improvvisamente le è scattata la molla e si è inventata da nulla questo gemello che addirittura si fa vedere mentre mentre lo lo culla mentre li dà da mangiare mentre gioca con lui però contemporaneamente vediamo dall'esterno la telecamera che inquadra la donna che in realtà gioca da sola si muove da sola per casa grida a persone che non ci sono mentre in realtà sta guidando a questo figlio immaginario il marito naturalmente prima ha contrastato questo modo di fare perché la voleva salvare la voleva che fosse così come era prima poi dopo si arrende capisce che per avere un briciolo della donna che aveva sposato non deve fare altro che assecondare questa sua follia e quindi le lascia credere che questo bambino in realtà viva fatto sa che quando arrivano in questa casa questo bambino che questa donna sta immaginando comincia ripete ad avere dei comportamenti stranissimi addirittura le viene fatto capire che sta per essere sacrificato perché rinasca il demonio fatto sa che la trama si sviluppa in maniera tale da arrivare al punto culmine con il famoso inseguimento finale perché la donna crede che le vogliono ammazzare il bambino quindi questo bambino in realtà fugge lei fugge con lui ed arrivano alla fine in questo granaio dove marito le spiega la cruda verità e si vedono questi flashback di lei che si inventa questo figlio e lui dice adesso dobbiamo finirla o io ho il bambino apre il granaio fa che tonnellate di grano cadono su questo bambino che intanto sta sta giù la donna scoppia a piangere urla come una pazza vuoi ammazzare mio figlio e finisce per ammazzare in realtà suo marito dando involontariamente una spinta e facendolo volare giù dal granaio ammazzandolo scava nel grano cercando suo figlio lì non c'è nessuno e a quel punto capisce sostanzialmente di essere pazza capisce di aver scelto suo figlio piuttosto che suo marito e capisce di aver ammazzato sostanzialmente veramente suo marito il film finisce in che modo con la donna che va al funerale del marito e dopo essere entrata in macchina si gira e vede suo marito di fronte a fianco a lei sorridente e felice addirittura dietro si gira e i due gemelli sorridenti e felici pronti ad iniziare un nuovo viaggio quindi è discesa completamente nella follia oramai immagina tutti i morti i due figli gemelli che non sono mai esistiti il marito che è realmente morto e quindi il film finisce così in maniera tragicissima il film mi è piaciuto perché è il sesto senso dei giorni nostri parliamoci chiaro solo che mentre il sesto senso l'un per cento della popolazione probabilmente aveva capito l'inghippo fino alla fine del film qui invece una volta che si arrivate alla scena culmine della medium che vedendo la camera del bambino dice la donna tu sei malata e scappa via quindi capisce che la donna da avere dei problemi non certo il bambino che in realtà non esiste lì sostanzialmente si capisce tutto da quel momento in poi il film declina verso un finale abbastanza scontato però vi assicuro che fino a quel punto la recitazione è ottima tranne quella del bambino ripeto gli attori sono famosi tra l'altro non è che sono gli ultimi arrivati perché teresa palmer che interpreta rachel l'abbiamo vista innanzitutto in produzione disney si era specializzata da qui in questo ruolo da 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 fatina racconti incantati l'apprendista stregone poi è passata addirittura lo chef high horror con the garage 2 lights out molto molto bello ve lo consiglio con wolf creek anche questo molto molto bello insomma un'attrice di spessore che si sta facendo largo del trent e passa film che ha fatti molti ultimamente sono finzione fantascienza e e horror quindi si sta specializzando e quindi è molto molto brava nelle espressioni facciali nelle mimiche del corpo il marito steven kree è un attore più da teatro che da cinema però anche lui ha fatto i suoi i suoi film insomma come maleficent come martis lane anche lui ha un bel background alle spalle e poi soprattutto c'è barbara martin che fa la helen personaggio più bello secondo me la medium che non ha fatto tantissimi film nonostante la sua venerante età però veramente il suo accento britannico il film l'ha visto in lingua originale come al solito e il suo modo di fare il suo modo di recitare veramente accattivanti e bravissima bravissima veramente quando nel sonno dice alla donna non andare quando la donna sogna in questi rituali malefici e quindi sottoposta lei e quindi sotto posto il figlio queste visioni che la tormentano che in realtà sono frutto della sua mente malata quando lei pede che le viene fatto crescere un figlio nella pancia quindi rituali magici sfregiamenti aperture di pancia cose incredibili che in realtà non esistono sostanzialmente perché sono frutto della sua pazzia veramente veramente brava mi è piaciuto un po meno il bambino tristiano ruggeri dell'atto di carissime origini italiane al suo debutto ma veramente forse nella scelta del bambino si poteva fare qualcosina in più il film ripeto la regia è ottima il regista tannini mussone è finlandese ha fatto pochissime cose in patria fino adesso soprattutto commedie quindi e al suo debutto nel mondo horror veramente un applauso se lo merita perché la tensione ripeto sceneggiatura regia sono ottime fino ad un certo punto poi si capisce l'inghippo è per carità il film di questo tipo una volta che si è capito che il bambino non esiste deve soltanto arrivare alla sua naturale conclusione però ottimi ottime le luci ottime le scenografie bellissimi paesaggi naturalmente la i boschi finlandesi sono quello che sono le scene che hanno ricordato mi hanno ricordato molto mid sommer soprattutto quella del matrimonio che forse la più bella del film con questi rituali strani fatti durante queste nozze che acquiscono ancora di più i nervi della donna che pensa che qualcosa di strano le sia per succedere quindi guardatevi questo film perché merita merita veramente una coproduzione finlandese estone anche se poi è made in usa e hollywood perché gli attori sono tutti americani quindi vi consiglio questo film vi ringrazio perché finalmente abbiamo usato cronda mille quindi il canale si avvia ad un suo sviluppo e probabilmente cambierà nome di qui a poco io ringrazio nuovi iscritti vi invito a condividere il video a mettere mi piace e vi dà appuntamento alle prossime produzioni che saranno sul canale a breve ciao ragazzi grazie a tutti